Oggi giocheremo ad Another Princess is in Our Castle, un nome più difficile no? Ossia il gioco horror di Super Mario dove la principessa Peach in realtà non è la principessa Peach ma una bestia di satana, aiuto! E se questo video vi è piaciuto e io non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere! Buona visione! Musica Devo dire che per ora sembra tutto normale, tutto troppo normale, visto che ci troviamo in un gioco horror di Super Mario dove la principessa Peach, sì la proprietaria del castello, è tipo un demone assetato di sangue che vuole mangiarci, il che non promette per niente bene. E sono sicuro che adesso dovremmo usare la chiave appena raccolta per aprire questa porta... Salve! Come va? Tutto bene? Ci sono delle ceste? Posso aprire le ceste? No! Mi posso nascondere nelle ceste? Sono tipo gli armadi di Roblox Doors? Ma sono veramente così basso da potermi nascondere in una ceste? Ora la vera domanda è da cosa o da chi ci stiamo nascondendo? Tutte le porte del castello che in realtà dovrebbero essere apribili sono sbarrate! Lo sto capendo sono veramente confuso! È l'unica porta apribile! C'è una lanterna! Posso prendere la lanterna? No! No, 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 no! Io mi nascondo nella ceste! Basta! Io non uscirò mai più di qui! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questa è la principessa Peach! È tipo un fantasma demoniaco! Ok? Ok adesso ti seguo! Ti prendo! No, non è vero! Non è vero! Non è vero! Tu non mi hai visto! Io non esisto! Ok? No! No! C'è anche Todd Satana! No, 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 no! No ragazzi! Ragazzi guardatelo! C'è Todd versione fantasma satanico! Ok? Credo che la nostra missione sia evitare sia Todd che Peach e raccogliere le stelle indicate in alto a sinistra! Ok? Ci possiamo abbassare! Maledetto Todd! Torna a casa! Oh! Si sono aperte tutte le porte! Adesso non hanno più le sbarre! No, 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 Todd sta salendo! Veloce! Ok? Serve una chiave! Ok? No, 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 no! No, 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 no! Aspetta, aspetta, aspetta! No, 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 no! Sono circondato! No, 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 no! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego! Ti prego! Apriti! Apriti! Ok? Ok? Zitto, zitto, zitto! No, non voglio andare qui! No, 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 no! Too bad! Lo so che sono too bad! Ma faccio schifo nei giochi horror e mi cago addosso! Ok? E pensare che dall'esterno questo castello sembra così tranquillo! C'è il sole! Ci sono i prati! Che bisogno c'era di trasformare la principessa Peach in un fantasma satanico che vuole divorarci l'anima! Cioè, stiamo parlando di Super Mario, uno dei giochi più belli e colorati del mondo! Perché? Perché trasformare Toad e Peach in dei mostri? E perché io l'ho scaricato? Sono masochista! Sì, ragazzi! Sono masochista e mi piace farmi del male cagandomi addosso con questi giochi! C'è tipo un'entrata nascosta! Aspetta, posso saltare? Salta! Dai, però! È un muretto di 20 centimetri! Maledetto Mario! Ok, ok, vediamo di entrare da retro! Magari c'è qualcosa di figo? Niente! È bloccata! La faccio schifo! Ok, non ci sono segreti particolari? Questa stella non la posso raccogliere? E dai, fammi raccogliere la stella! Non fa niente! Adesso entreremo nel castello e uccideremo tutti i fantasmi! Cioè, li uccideremo di nuovo perché tecnicamente sono già morti, credo! Piano, molto lentamente, prendo la lanterna! Adesso ti aspetto! Vieni, ti tiro una lanternata in testa! Ti faccio vedere io il fantasma! Non è vero, non è vero, non è vero! Mi sono caccato addosso! Mi sono caccato addosso! Devo smetterla di fare queste cose! Ok? Lei se ne sta andando! Ancora non mi spiego come sia possibile che noi entriamo per intero! Con tutto il corpo in una chest! Ma dettagli! È come se Steve di Minecraft entrasse nelle chest proprio dentro per prendere gli oggetti! Non ha senso! Allora, questa è chiusa! Todd ancora non arriva! Ok! Ok, non c'è Todd! Oh! Ah! Abbiamo bisogno di cinque anime! Cioè, sarebbero le stelle e le anime per aprire quella porta? Fighissimo! Piano, 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 piano! Ehi! No, 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 no! È qui giù! È qui giù! È qui giù! Ah! 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 C'è Todd! C'è Todd! C'è Todd! C'è Todd! Mi sto caccando addosso! C'è un altro fantasma! Ah! Ah! La chest la c'è! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono un ninja! Oh no, 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 no! Però sono tutti e due qui! Mi sa che per adesso non posso uscire dalla chest! Vattene! Non c'è nessuno qui! Eh no! Non sono una chest parlante! Via! Su! Perfetto! Zitto, 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 zitto! Ok! Ok! Abbiamo un'anima su cinque! Piano! Cos'è sta roba? È un'altra anima? È un'altra anima? Quindi le anime sono diverse? C'era un fantasmino? Adesso era un blocco di ghiaccio? Eh! Ah! No, 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 no no, 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 no! Non mi vedi! Non mi vedi! Tecnica di Naruto! Divento una cassa! Zwum! Tu non mi hai visto! Io sono una cassa Tu non puoi aprirmi Tu non puoi vedermi Ok? Sono perfettamente mimetizzato Andiamo a piccolo Mario Possiamo farcela Possiamo farcela Per ora non c'è ombra di Todd Non è vero Mi sono cacato addosso Ma l'ho appena finito di dire Maledetto te E chi ti ha creato Ok? Ok qui non c'è Peach Perfetto Vediamo qui Stai buono? Stai buono? Oh! C'è un pinguino! Grazie Spirito di Lorenz Per avermi fatto questo dono Fregati Fregati Torna a casa Subito Maledetto fungoparlante Ma guarda No no Ma perché? Ma perché vengono sempre insieme? Che problemi avete? Cos'è siete fratello e sorella? O tu? Tu sfrutti Todd Per fumarti funghetti allucinogeni Ecco perché sei diventato un fantasma eh? Ci ho acceccato? Ok devo salire lì sopra Con molta calma Con molta calma Ovviamente ragazzi Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se vi stanno piacendo gli horror con la webcam Apri 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 Via No No, 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 no. Cassa. Cassa. I. Posso saltare. Baba poi. Oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Ce l'avevo letteralmente a un dito di distanza. Un dito. Mi sono girato, ce l'avevo qua. Qua ce l'avevo. No, no. Allora. 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 Devo respirare. Devo un attimo bere. Aspetta. Ok. Ho bevuto. Sono ancora vivo. Mi sono fatto lo shieldino di Fortnite. Da che parte devo andare? Di qua? No, di qua no. Di qua! Di qua! No! Non è di qua! C'è qualche stanza che non riesco a trovare, ok? Oh, no, 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 no! Vattene! No! Non ci sono! Certo che comunque questi fantasmi sono veramente degli imbecilli! Cioè, come fai a non vedere che sono entrato in una cesta davanti a te? Com'è possibile? Lui è venuto di qui, quindi secondo me è questa la stanza giusta? No! Non è neanche questa la stanza giusta! Piano, piano, ci sono delle stanze che non riesco a trovare! Aspetta! Forse di qua? No, 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 no! Basta! Madonna mia, sto fungo! Mi sta facendo... Uscire pazzo, uscire pazzo, ok, ok, piano, piano! Allora, proviamo ad entrare di qua! Per ora di Peach non c'è neanche l'ombra! Fantastico! Sì! Spero di non trovarmela davanti! Devo provare ad andare qui sopra! Ah no, ok, Peach, da quella parte! Vai! Sì! Sì, 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 sì! Sono a quattro! C'è una cesta? C'è una cesta! Perfetto! La tattica del ninja! Altro che Naruto! Io sono pogguto! Io credo in me! Nel cuore mio! Sfegati! Manca un solo fantasma e possiamo aprire la porta! Possiamo farcela? Serve massima concentrazione! No! No, possiamo parlarne! Possiamo parlarne! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Ma sono davvero un ninja! Aspetta! Aspetta, guardali! Guardali che si sono fermati! Io tecnicamente dovrei andare sopra dove stanno salendo loro! Ok, perché c'è una porta, esattamente quella porta dove è entrata Peach! Ma che sfiga! Che non ho ancora visitato! Ok! Ok, piano! Non ci posso credere! Ma sono stupido! Perché sono in... No, vabbè, dai! Ero a quattro su cinque! Ormai sto impazzendo! Ma quanto può essere difficile trovare un'ultima stella! Un'ultima... Anima! E là... Ormai vivo nelle ceste! Qualcuno può darmi... Una mano? C'è nessuno qui? Ok, forse... Sento Todd... No? Io devo andare lì su! Aspetta! Aspetta! Forse posso dribblarla! Sì! Ho già detto che io vivo nelle ceste! Perché è vero! Ormai passo più tempo qui dentro piuttosto che nel castello! Posso fare una cosa pazzissima? Vieni! Vieni, vieni, vieni! Aspetta! Ok! Io la tiro da questa parte! Magari decide! No! Non devi tornare di là! Non ci posso... Non ce la posso fare! Vai a destra! Io devo andare a sinistra! Ok! Ok! No, no, no! No, no, no! Va bene! Va bene! Adesso se non arriva Todd... Entro qui dentro... E ti tiro... No! Stavo scherzando! Era uno scherzo! Era uno scherzo! Aspetta! Mi è venuta un'idea! So io come dribblarti! Piano, piano, piano! Ok! Ok! Devo recuperare la stamina! Vai! Vai! Non uscire Todd! Non uscire Todd! Ok! Ok! Mi sta inseguendo! Mi sta inseguendo! Vai! Vai! Lo sapevo che c'era l'ultimo! Ok! Aspetta! C'è una cesta! Yes! Ho tutti e cinque le anime! Sono riuscito a dribblarla! Ok! Adesso possiamo aprire... La stanza della stella! Ehi! Ehi! No! No! Non ci sono! Io non ci sono! Ti devi levare! Levati! Adesso con molta calma... Quanto può essere difficile... Raggiungere... Questa, questa vai! Perfetto! C'è il quadro di Peach! E c'è la chiave! No, 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 no! Piano, 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 piano! Oh mio Dio! Guardate... Guardate Peach! Diventa sempre più fantasma! No, vabbè! No, vabbè! Questa roba è fighissima! Guarda! Guarda! E diventa versione horror! Perfetto! Allora, adesso questa chiave... Sono sicuro che vada da questa parte... No, 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 no! Ritorna nel tuo quadro! Ritorna nel tuo quadro! Ok? Vai! Brava! Brava! Vai nel quadro! E poi vattene! Subito! Dai! Che devo andare ad aprire una porta, così posso scappare da qua! Ti ringrazio! La porta che ci serve è letteralmente qui a sinistra, ok, ok, lei è qui giù? Apri, apri! No, che vuol dire serve una chiave? Aspetta, no, 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 no! Quale porta? Quale porta? Mi ricordo! No, levati! Levati! No, 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 entra, entra, entra! Ok, ok, ho capito dove devo andare! C'è una porta qui sotto! Tipo le prigioni! Piano! Piano! Non mi hai visto? Bravo! Bravo, 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 va bene! Credo sia questa la porta ad aprire! Veloce, veloce, SÉ! Via via via, via via via, via via via! E adesso... AAAAAH! AH! Ho finito il gioco! Mi hai fatto cacare addosso mortacci tua! Ma abbiamo finito il gioco! Easy! SÌ! Al prossimo video! Mi sono leggermente cacato addosso, mi sa che devo andare in bagno. Torno subito...